Come vi avevamo pronunciato la scorsa settimana, quest'oggi facciamo Baldi vs Grani nella scuola di Baldi Ve l'avevamo promesso e ci siamo Allora, come funziona? Ho nascosto ovviamente sette libri in giro per la scuola Fere che Grani li dovrà trovare tutti e sette E solo in quel momento potrà utilizzare il suo fucile a pompa Esattamente Mentre io, ogni volta che lei troverà un libro diventerò sempre più veloce Piano piano andrò fino alla sua stessa velocità Ma sarò armato di una bella spada di diamante Che faremo finta che sia una bacchetta, Fere Qua bisogna fare un pochettino di roleplaying Quindi tutti voi state vedendo un bellissimo bastoncino Una bellissima bacchetta da professore Quindi è molto semplice Fere parte, inizia a cercarsi i suoi libri Ogni volta che entrava una deve dire la voce alta E io piano piano divento sempre più veloce E Stef oggi, secondo me, è un giorno importantissimo Perché? Perché si decreterà chi è il personaggio horror migliore Non lo so, Fere Secondo me sì Secondo me Vincerà Grani Molto cattiva e spietata Col suo bel fucile O vincere a Baldi Non lo so Però, sai, siamo anche nell'ambientazione di Baldi Quindi un vantaggino ce l'ha Vediamo, vedremo, vedremo Allora, sei pronta a partire? Ovviamente Non so se vi ricordate, raga Ma questa qua è l'entrata perfetta del gioco di Baldi Infatti qua e qui ci sono i primi due libri Io al primo non cambierò di velocità Al secondo sì Lo spawn di Baldi, lo sappiamo tutti È qui Proprio precisi, precisi, precisi E ti volevo dire giusto anche un'ultima cosa, Fere In giro per la scuola ci sono pure degli oggetti che puoi trovare Ok Per rallentarmi Un po' come nel gioco quando compravi la soda E così via Ci sono davvero degli oggetti che puoi prendere per rallentarmi in certe situazioni Allora, Stef, ho l'ansia Io nella mia vita non potrei mai giocare un gioco come Baldi Figurati fare questa cosa Quindi te lo dico già, mi sto già sentendo male Allora, io sicuramente visiterò queste due stanze Non appena tu mi dai il via Perché secondo me preferisco togliermele di mezzo E poi andrò in giro a perdermi tutto il tempo Ok, perfetto Pronto? Parti pure, parti pure Parto Al primo libro io continuerò a non muovermi Dobbiamo simulare il perfetto gioco Quando lei prenderà il secondo vorrà dire errore E allora io partirò Ma sarò molto lento E adesso capirete come funziona Secondo libro preso Ok Uno, due, tre, quattro, cinque Io mi posso muovere ogni cinque secondi, raga Ok Ogni volta che prenderò un libro diminuirà questo valore Fino ad andare alla sua stessa velocità correndo E a quel punto Ferre sarà nei guai Ovviamente avvisami quando ne trovi altri, cara mia Ok, certo, certo Ovviamente puoi anche decidere di non prenderli Di imparare piano piano la location E dopodiché di prenderli tutti Qua sono in una stanza e non c'è un libro Mi ha fregato Cavolo, dove li hai nascosti? Allora, ma sono in classi oppure in stanze strane? No, non me lo devi dire, dai Non me lo devi dire Se no è troppo semplice Devo andare proprio in giro per la scuola Vabbè, 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 vai, vai, vai Ho trovato il terzo, Steph Decidi di prenderlo Ok, quindi ogni quattro secondi Uno, due, tre, quattro Uno, due, tre, quattro È molto divertente sta roba Ovviamente per ora, raga, io sembro completamente inutile Ma già al quarto libro Steph, ho trovato Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Perché qui c'è acqua, Steph? Perché ho deciso che dove ci sono i buff Ma no C'è anche una piccola penalità Ah, trovata Ho capito Quindi questa è l'acqua che mi permette di rallentarti Ma automaticamente rallenta pure me Perché questa stanza è piena d'acqua Esatto Perché è un disastro se tu mi raggiungi Per conquistare quel potere Hai dovuto, diciamo, rallentare Perdendo tempo con dell'acqua Ma adesso hai un secchiello d'acqua Ok Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Ok, in un altro secchiello Uno, due, tre Pensavo ad un altro libro Comunque, Steph Ci tengo a dire che io non sto correndo troppo Sto simulando un gioco reale di Baldi Che non puoi correre troppo Spamare la corsa Altrimenti sarai già troppo più veloce Ah, beh, sì Effettivamente te la devi un pochettino gestire Uh, ho trovato della speed, Steph Quindi sarò più veloce io Eh, quando te la tiri Quando me la tiro, esattamente Sì, sì, sì È come la barretta di cioccolato che ti permette di correre di più Cavolo, ma sei pazzo Mi hai fatto scendere un colpo Steph, vattene Sei inquietante Ti chiudo la porta in faccia, aiuto Corro, corro Corro Secondo me l'hai un po' sprecato Non mi interessa, Steph Mi hai fatto scendere un colpo Pensavo fossi più lontano Steph, no, vattene Mi fa paura Mi fa paura Poi sai che sto facendo anche? Mi sto chiudendo le porte alle spalle Perché altrimenti se le lascio aperte Capisco di aver già visitato quelle stanze Secondo me risulta troppo semplice Quindi mi sto rendendo proprio il gioco Esattamente come Baldi La pozione che hai tirato era per terra L'ho presa anche io Quindi mi sto muovendo un po' più lento Per ribilanciare le cose Comunque Fede secondo me l'ha sprecata brutalmente questa pozione Era davvero forte Secondo me se l'è sprecata la grande Non rompere Ma la gioco come voglio io Non come vuoi tu Vabbè, vabbè Tanto nel caso sarò io a picchiarti Guarda che al prossimo libro io vado col 1-2 E siamo al quinto libro nel caso quando lo trovi Giusto? Sì Sei proprio scherza Ma come fai a non trovarli? Parca miseria 5, Steph Preso? Sì, l'ho appena preso 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Raga, ora si va veloci No, Steph, è colpa tua comunque che le nascosti troppo bene Ora si va veloci Farle li ho messi nelle stesse stanze del gioco Non rompere, è difficile Ciao, Steph Mi dispiace ma mi fai paura Mi metti un'ansia assurda No, qua ci sono già stato Ma ricordo sta stanza Mi sto perdendo Comunque se le avessi lasciate aperte almeno avresti capito dove sei già passata, cara La tua strategia non è stata buona Perché ho detto poi magari è troppo semplice Voglio fare il gioco esattamente come Baldi Voglio renderlo realistico E invece mi sono fregata da sola perché voglio fare le cose bene Va bene Allora Dove sei? Lancia un urlo se ci sei, ti prego No, non lo lancio Non mi far venire un infarto Non mi far venire un infarto, Steph Non mi far venire un infarto, Steph Devi avere l'infarto, Steph Ti prego È proprio questa la parte divertente del gioco Ma dimmi te se granni con questa faccia si deve spaventare con Baldi Che puoi qua? Togliate meno bene che noi Oddio, sto sentendo versi strani Cosa vuol dire? Non lo so, ho sentito un verso strano Ah, ci sono già state in questa stanza Basta, mi lascio le porte aperte Ecco, hai imparato Quando si finisce più, Steph No, sono in un vicolo cieco Sono in un vicolo cieco Devo passare da qui Tantazione, ma mi hai visto? Sì che ti ho visto, Steph Certo che ti ho visto Ma per chi mi hai preso? Allora, io sto aspettando, raga, che trovi libri Così qua la possiamo picchiare per bene Non sono venire nascosti, è difficilissimo E ho capito, ma qua io vorrei correre un po' Se c'era una porta chiusa Secondo me non ci sono state in sto corridoio Te ne mancano due, giusto? Quindi sì, è una buona notizia se non ci sono state Ok? Sì, me ne mancano due, sono cinque Raga, al prossimo io non avrò più pause Quindi corri spammando come se non ci fossero domani Esatto, esatto Adesso sono velocino, ma niente di che Al prossimo io posso correre Sì, Steph Cavolo, non vedo l'ora di prendermi l'accidenti di fucile Devo trovare il settimo libro Porca miseria Spero che tu abbia ancora un po' di cose per rallentare, cara Sì, sì, ce le ho Ok Non salto Il problema è che non ho Aspetta, questa stanza l'ho fatta? Sì, cavolo, è quella delle ragnatele Sto girando in tondo Non è possibile Non ho la più po' l'idea di dove sia l'ultima stanza Sai che io sto cercando di trovarla? Di nuovo? Per stare lì? Per stare lì? No, tu ti devi muovere costantemente, però, Steph Cavolo Cavolo Dimmi che è qua, dimmi che è qua Dimmi, non è qua Basta, basta Speravo fosse là Comunque un pochettino di sprint lo posso fare Come nel gioco reale Speravo fosse là Perché così avrei tirato fuori il fucile, Steph E ti avrei sparato dritto Eh, buona tattica Però Ti prego dimmi che è qua Ora Non ha più Perché non lo trovo Steph, aiuto Perché? Di che cosa è paura? Prima di F5 Porca miseria Porca miseria Non riesco a prendere l'acqua Spera No, Dan, non ti ho preso Sì che mi hai preso Oh, cavolo, cavolo Non ho idea di dove sia l'ultimo libro Non lo so, Steph Non è la più pallida idea Aiuto Non è, ok Non lo trova, eh Non lo trova Vabbè, come nel gioco, eh L'ultimo è sempre introvabile No, beh, certo Non potevamo fare un Baldi versus granni Troppo sempre No, Steph Sto girando intorno Sto trovando solo le porte a parte Mi dispiace, stai panicando Non so che fare Stai panicando Non so che fare, Steph Stai panicando troppo, Fer Non so che fare Che poi sono curioso di vedere Se in un posto specifico Lo hai preso Perché mi ricordo sempre Che lì c'è Secondo me l'ha preso Quindi l'ha messo in qualche posto strano Secondo me l'ha preso Non ho detto quello Ma forse non l'ha preso Vediamo Vediamo se l'ha preso Sì, l'ha preso, l'ha preso Ok, è stata brava E allora hanno un'idea io Di dove sia l'ultimo Mi dispiace Non ti posso dare una mano E non voglio darti una mano Sì, sicuro di averne messi sette Sì, cara Ho contato alla perfezione Sette le ho messi addirittura Nelle sette stanze In cui sono nel gioco Quindi Quella che non riesci a trovare In questo momento E quella che io Quando giocavo a Baldi Non trovavo Quindi è molto fatto bene Questa mappa Stai complimenti a te Guarda Però mi stai davvero incasinando Cioè non è possibile Sta roba Che per di più L'acqua rimane in giro Adesso dà fastidio Sia a me che a te In un modo incredibile Anch'io l'ho dovuta schivare Quindi per niente No, l'ho già preso Uffa I I Ok Ok Allora Per Zitto Finiamo sti giochi Dai Voglio sentire È ora di finire È tardi Vogliamo tutti Tornare a casa nostra Secondo me Io voglio tornare Il mio scantinato Stef Non voglio tornare a casa Voglio farti fuori Questa porta è aperta Quindi ci sono entrata No Stef Non la trovo Sto girando in tondo Tutto il tempo Non è possibile Perché sta a scuola È un labirinto Beh È fastidioso Ecco perché Io non ho mai giocato Baldi L'ho sempre Prelasciato a giocare Non ho più niente Per rallentarti Un po' di sprint Lo posso usare Giusto pochino Stef Fatele Ti prego Lasciami in pace Non puoi farmi fuori Stef Comportati da persona gentile Ti prego Sì che posso No vai via No non vado via Ti vedo il settimo libro Così ti posso Sì L'idea Li pedi tu Io li ho messi Ma non so cosa Non hai aperto O controllato bene Sto lasciando le porte aperte Quindi è abbastanza ovvio Ma che ne so No sto girando in tondo Io non capisco Sai quante volte mi sono perso Per mettere il list Dei libri Tanto No ci credo È stata una tortura Anche metterli Totalmente Totalmente ci credo Ti giuro che non sto Non sto neanche Diciamo andando alla leggera Cioè io sono andata dritta A cercare i libri Cavolo Vedo qualcuno che nuota Vedo qualcuno che nuota Allora forse qua Qua c'è una porta chiusa Non sono mai stata in quest'ala No? Oh cavolo No qua ci sono altre aperte Vedi che sto continuando A parte che l'ho persa Sei dietro di me Ho qualcosa di genere Brutto maledetto E io te la trovo Beh allora Possiamo fare che È finita No Stef Stiazzando No E finiamo qua No 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 Dove trovarla Ho un onore Sono una povera vecchietta E tu stai cercando Di bastonarmi Stef Cioè non va bene Sta cosa No Io scappo dalla mensa Scappo dalla mensa Via 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 Non ti cattere le porte Mi hai fatto scendere un po' Lo so Dove vai? Dove c'è l'acqua Così ti riraggiungo? No Stef Continuo a girare all'infinito Magari prima o poi Con la porta chiusa Non ti suddire Maledetto Maledetto Dai oh Stef Quanto ti manca? Mezzo cuore Due cuore Basta Allora Adesso no 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 Aspetta 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 Stef Andiamo insieme Andiamo a cercare l'ultima cosa No e bene ci mettiamo Andiamo a cercarla Ci mettiamo due ore Devi provarmi che c'era Quest'ultimo libro Quanto ci mettiamo? Io ne ho Guarda aspetta Ti do Uno Due Tre Quattro Cinque E sei libri Dov'era il settimo Stef? Dimmi dov'era Portami Portami Vogliamo tutti le prove Le prove che il libro c'era Dai Fede non rompe le scatole Che fa? Basta Finisco così Mi hai glitchato Fere Cercano abbastanza No Fere mi hai glitchato Completamente Ha crashato tutto Ci fermiamo così Non so neanche se state vedendo qualcosa Fere ha glitchato completamente tutto Ciao Mi è nato totalmente in crash Qua sotto Compariamo altri video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao